In piazza del plebiscito sono stati esposti alcuni automezzi a energia pulita della nuova flotta Asia. Inoltre sono stati presentati nuovi ispettori ambientali che avranno il compito di vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti da parte di cittadini, imprese e attività commerciali. Il loro contributo servirà ad avere in città una raccolta differenziata sempre più efficiente ed efficace, anche sanzionando eventuali irregolarità riscontrate rispetto al corretto conferimento dei rifiuti. Ascoltiamo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Per fare in modo che la raccolta sia più efficiente, è ovvio che per avere una raccolta dei rifiuti e un decoro urbano abbiamo bisogno di personale, ma anche di mezzi moderni, efficienti. È anche ecologicamente sostenibile, alcuni dei mezzi sono mezzi elettrici, quindi proprio per coprire le esigenze del centro storico e questo fa parte di questo grande sforzo di riorganizzazione per avere una Napoli più pulita, con un decoro maggiore e più organizzata. Ed è stata presentata anche la nuova flotta di automezzi elettrici, Asia, di ultima generazione. Si tratta di 177 veicoli endotermici e a motoro elettrico da zero emissioni. Asia, alla presenza del sindaco, ha consegnato simbolicamente all'associazione La Ronda del Cuore le coperte ottenute grazie alla raccolta degli indumenti in città effettuata dalla cooperativa Ambiente Solidale, che verranno distribuite alle persone senza fissa dimora. Ascoltiamo l'amministratore unico di Asia, Domenico Ruggero. La nuova flotta di Asia Napoli darà un contributo sia ambientale, abbattendo quelle che sono le emissioni climaalteranti attraverso la fase di raccolta, ma soprattutto avremo una riduzione dei costi aziendali e una raccolta più puntuale in modo da arrivare in maniera precisa rispetto a tutti i cittadini e le strutture presenti sul territorio per una raccolta che sarà indirizzata verso l'industria 4.0.